. GF VIP, Cecilia umilia Ignazio, il confronto con Francesco Monte Vinzuiden. Colpo di scena al Grande Fratello VIP, Cecilia umilia Ignazio Moser, ecco perché. . Ennesimo colpo di scena al Cancelletto Grande Fratello VIP 2017 dove abbiamo visto che Cecilia Rodriguez è tornata a parlare della fine della sua storia d'amore con Francesco Monte e lo ha fatto facendo un confronto del tutto inatteso con il suo attuale fidanzato Ignazio Moser, con il quale fa coppia fissa da circa tre settimane. . Una storia d'amore è quella tra Cancelletto Cecilia e Ignazio che ha scatenato non poche polemiche in rete e sui social, dove in tantissimi si sono scagliati contro di loro accusandoli addirittura di atti o sceni in luogo pubblico. . Il confronto di Cecilia tra Francesco e Ignazio al Grande Fratello VIP. . . Le ultime di gossip di queste ore rivelano che Cecilia è tornata a parlare di Cancelletto Francesco Monte e lo ha fatto durante una chiacchierata in salotto con Cristiano Malgioglio, durante la quale si è lasciata andare ad un confronto con Ignazio Moser. . 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